O di qualsiasi altro ragazzo in chat che ne capisca qualcosa, perché ho fatto un video alla mano Ho fatto un video alla mano perché per me si è suicidato, non aveva senso Non vediamo proprio le carte di MGM, vediamo se è a molla l'osso Ok, lui ha 1000 Ok, niente da sotto C'è il tasso Ok, perdiamo contro di lui Ma sono questi 7000, gli 87 vengono da noi Quindi benissimo così Kung fu? Sarei te? Ma pure Kung fu chiama Guarda il fratello che ha un fu linsky, un magicinsky Sarei no, sarei no Cold Cold Come on, Jave Cold Jack, Cold Jack 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 Nooo, merda, avevo tutto questo tempo 3-10-8, vinto, saliamo di nuovo allo stack iniziale che era 5.000, grazie per il good luck, poca è, qui veramente l'abbiamo fatti, qua ragazzi spero di vedere 4 fold, a parte di questo sarà nando addio, ne abbiamo fatti pure 3 o 4 uno dopo l'altro, siamo rimasti in 12, eh, ovviamente, che noi, madonna, ne ha fatti fuori 3 uno dopo l'altro questo, ne aspetta, ma sinceramente, abbiamo 20 bui, scopa, caffonculo, se c'è asso k è veramente un peccato ovviamente, ma non ci facciamo bullare in bolla così, con asso q è troppo bello, quindi good luck, abbiamo full day, così è quel che conta, siamo in un altro paio di bolla, wow, folda 8-8, favoloso, per noi è un risultato enorme, raga, che lo abbia foldato poco tecniche diciamo, bella sta risalitina a 13.000, che eravamo praticamente morti, eravamo, guarda, niente asso, niente courier, uff, visto una figura ho detto merda, vamos, vamos, ok, diamo qua bbb, chiama, vittiamo il magico jack, niente mono out, yes, yes, che bello, può essere il preferito del sito, ci serve solo di holdare un 82%, yes, we can, ecco abbiamo un altro shove, questo spero che foldino, quello di prima volevo essere chiamato qua, speriamo di vedere, mi sta bene, sai, salire a 2.65, siamo una meraviglia, ecco qua, oh, beh, K passo 9, va benissimo anche così, però, vicino vicino a quel 4 magico, oh, penso che siamo quasi defunti, ok, go back, no, jesus, totalmente, totalmente random, no, siamo in un lean, qua con asso 7 suited è troppo buono, lui sta prendo close to any 2, secondo me, quindi, sta in super mega run, andiamo con 23% per vincere, no, è la nostra fine, gg, vediamo se riusciremo a fare quest'altro final table, raga, lui apre, lui sciova, noi riscioviamo asso jacks fitted, contro asso 10, va bene, siamo arrivati, quindi, quarti per 114 euro, meglio di un calcio le palle, poco, ma sicuro, vediamo, ok, 130 euro da aggiungere, no, allora, piattone, ok, 130, andiamo dritto, dritto a 200, ok, final table, abbiamo fatto noi fuori a quello, proviamo, chiamasso 9, chiamasso 7, liscissimo, vediamo ancora, non ho idea di come abbia fatto a salire questo stack enorme, vi giuro, non ricordo come è fatto a fare questo mega stack, vediamo se riusciamo a far fuori a bojack, un po' boldo, folda, niente, no, c'era qualche alto in più di quello che credevo, bene così, holda, holda, esattamente, ok, qua l'unica cosa da fare all'internet, non andare per foldare mai, eh, perché foldare quando c'è a bojack, perché aprire per 4, porca trochi, qua con lui a 25 mila, sciogliamo super easy, jack nova, lui snap ancora più easy, con k6, brutto pazzo, malato, cuori jack nova, yeah, get the fuck out, ancora te al ICM, ok, 133 garantiti, tutto il cazzo stupito, ah, ancora, oggi abbiamo pure fatto rebuy all afternoon on stars, quindi è doppia daily donation, può uscire un 4 o un 10, ok, può andartene a fanculo, sì, finalmente, un incubo a questo tipo qua, 3 left, 187 garantito, già diventa un payout interessante adesso, 6 bui sciogliamo, 19 e 10, oltre che abbiamo fold equity, sopra big blind, anche small blind, va bene, direi che siamo, forse, out, gg, 187 euro, amen, ancora qua, aggiornate il titolo, Dora ragazzi, the final table, classic, ora vi faccio lo screen dei premi, diciamo, secondo me, Andiamo a che facciamo questo flop Ok andiamo a chebrano la dar Andiamo a che facciamo la ladder Quindi buona serata Ci vediamo domani Ciao raga